Quali lettere riesci a leggere chiaramente? Salve! Aveva un appuntamento con me? Io sono la dottoressa Feri, molto lieta. Prego, si accomodi pure. Sì, puoi dirmi il suo nome gentilmente? Ah, perfetto. Allora la registro adesso. Dunque, dove ho messo la mia penna? Prenderò la matita. Tanto dopo dobbiamo trasferire tutti i dati al computer. Appuntamento per le ore 19.30, ok? Dunque, mi diceva il suo nome. Ok, data di nascita. E il codice fiscale? Lo ricordo a memoria? Ok, così ci affantagiamo. Perfetto. Allora, l'ultima visita oculistica quando risale? Sì. E ha avuto dei problemi nel frattempo? Ah, quindi alla guida? D'accordo. Quindi l'hanno mandata qui per rinnovare il certificato? Va bene. Attualmente porta gli occhiali. Ok? Sì, sì. Va bene, non si preoccupi, valuteremo tutto questo. Ok, allora, questi dati li passeremo poi alla segreteria. La registrazione è fatta. Non ci resta che iniziare. Allora, voglio valutare soprattutto la sua capacità di risposta alla luce. No, non deve fare niente. Adesso le darò tutte le istruzioni. Per il momento si rilassi mentre io indosso i mondi. Come dice? Certo, possiamo darci il tuo. Assolutamente. Allora, come va? Ok, l'ansia inizia a scemare. Piano piano. Allora, inizieremo con un semplice fall of the light. Ne hai mai sentito parlare? Semplicemente dovrai seguire la luce con lo sguardo. Esatto. Iniziamo. Allora, inizieremo con un semplice fall of the light. Perfetto, adesso metteremo una soluzione all'interno dell'occhio, non preoccuparti, può darsi che all'inizio tu veda un pochino abbannato, ma questo effetto passerà con il tempo, approfittane per rilassarti, d'accordo? Ok, allora, occhi ben aperti, così, perfetto. Sì, ho notato, c'è una differenza di colore tra i tuoi occhi, ma è molto leggero. Ti causa problemi questo? No, non dovrebbe. Benissimo. Accederò un po' la boccetta. No, non sentirei alcun bruciore. Non preoccuparti. Posso dirti che qualcuno addirittura trova questo effetto piacevole. e può dar sì che ti venga un po' di sonno all'inizio. Occhi ben aperti. Ok. Come va? Perfetto. Aspettiamo giusto qualche secondo. Fammi controllare la tua papilla. Benissimo. Si è un po' dilatata adesso, eh? Perfetto. Allora, ecco la parte che ci piace di più. Qui vedi bene, vero? Perfetto. Adesso prenderò questa bacchetta e indicherò delle lettere sul tabellone alle mie spalle. Tu non dovrai fare altro che dirmi le lettere che riesci a vedere. Va bene? Serve per te per capire se hai bisogno di modificare la gradazione degli occhiali e insomma anche per stare un po' più al sicuro, in strada, visto che devi guidare. Ok. Allora vediamo se riusciamo a rinnovare questo certificato. Perfetto. Siamo pronti? Bene. Bene. Naturalmente. Perfetto. 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 giusto? ok fin qui ci siamo adesso sarà un po' più difficile ok fin corretto corretto come dici? guarda meglio potrebbe sembrare un O in effetti è una C ok qui ok ok è abbastanza normale che tu tenda a confondere la C con la O soprattutto a questa distanza proviamo alla riga più sotto d'accordo d'accordo ad andare qui su questa linea quali lettere riesci a leggere chiaramente? ho capito ho capito direi a questo punto di provare qui ok 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 quindi sull'ultima riga hai più difficoltà va bene va bene è tutto molto chiaro fammi vedere un po' si l'effetto si l'effetto della soluzione nell'occhio passerà a breve l'importante è che tu possa stenderti adesso ok non fare particolari sforzi va bene sì 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 adesso registro io sul mio quadernino i risultati di questo test poi passerò tutto al laboratorio e i risultati ti verranno forniti direttamente dalla segreteria ti anticipo che il tuo certificato verrà rinnovato ma che dovrai cambiare la gradazione degli occhiali ok sì abbiamo bisogno di un po' più di aiuto ma non preoccuparti è davvero una piccola mano ecco ok allora perfetto perfetto e naturalmente sul foglio delle dimissioni ti lascio anche scritto il contatto del mio laboratorio in centro lì potrai venire quando vorrai fare una visita più approfondita ok se dovessi averne necessità ovviamente d'accordo sì è stato un piacere grazie per la tua pazienza ci vediamo presto allora grazie grazie adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte